Lo sai che io vorrei fare la patente e vorrei... Pilotarlo? Sì. Ma tu sei bellissimo. No, ovviamente è bellissimo. Sì. Pensa che muoiono un sacco di piloti privati. Cioè, strabello. Oppure un elicottero, mi piacerebbe tantissimo. Bellissimo. Cioè, ci sono... Tanto che posso sapere. Esatto. Per... Cioè, per il tuo motivo o per lavorare? No, per il mio, per il mio. Cioè, mi piacerebbe in futuro. Sai che i ricchi ragionano così. Cioè, la tua pista ti fa il tuo volo e basta. Sarebbe bello, con l'elicottero ovviamente è una cosa diversa rispetto a... Un aereo, però sarebbe bello avere l'elicotterino per... Ti fai vedere della gente che si schianta. A parlare di... Sui 50, 60 anni, ti prendi il tuo elicottero e ti fai il tuo diretto. Ci posso parlare di elicottero e mi viene in mente? Tic-toc. Eh sì, no, qua no. Sì. Cioè, sì, sì, ma non... No, no, zio, non ci fai a terra un elicottero, eh. Qua in casa? Qua in casa mia, nel giardino. Hai un tetto piatto? Devi tagliarvi albera. No, il tetto no. Eh, bisognerebbe spazzare fuori. Ma questo non te lo farebbero mai fare la mia vita. Nel campetto da calcio. Anche la... È troppo poco largo. Devi essere bello preciso. Comunque, fagli vedere il cazzo di elicottero o quel coso là che se si smonta te lo metti nei baule della macchina. Ma raga, ma... Elicotter, elicotter. Ma raga, questo qua... Che senso, però? Questo qua, anche per farvelo vedere su Twitch, è bellissimo. Il problema è che non mi ricordo come si chiami. Cerca tipo... Aereo smontabile, fra... Fall double plane. Pensavo fall down, elicotter. No. No. E com'è che si chiama? Eccolo! Signori! No, questo qua... Questo qua, raga, è molto figa come cosa. La clip pure. Questo qua è un tipo di aereo... Aspetta, è Icon A5. Icon A5. Cos'è sto bagaglio? Ma la roba bella... Atterra sulla sabbia, atterra sull'acqua, atterra dove cazzo vuoi ed è smontata. Atterra dovunque. Cioè è una roba veramente figa. Te la porti dietro col carrello, apri le ali e atterri i decolli dove vuoi. Ma elettrico è... Raga, conoscete qualcuno che ne è uno? Non è vero. Conoscete qualcuno che ne è uno? Non è vero. Però c'è... Ma il bello è che per una serie di motivi che io adesso non ti so spiegare, hai bisogno e si dà la patente ovviamente. Però hai un sacco di permessi in più rispetto a... Sarà tipo un drone a motore con te sopra. Sì, praticamente sì. Ma zio, ma te ti immagini ad essere in Sargento questo robo? Sembra il contenuto come dimensioni. Sì, sì. Ma guarda, non è grande. Questa è la risposta a tutto il traffico di osso che c'è in giro. Eh, te lo dico subito, eh. Io ho sparate? Due milioni, tre milioni. No, no, no. No, no. Siamo sui 450, 500 mila. Sì. Sarei 189 mila dollari. Minchia, raga, faccio. Raga, quello che avete speso voi prendendole. Facciamolo, compiamolo. Sì, sì, è venuta mezzo migliore, non di più. Anche io pensavo che stassi molto. Questa è il gusto. Quindi, cioè... No, questo sai che mi spaventerebbe meno? Ma che cazzo... Perché è di piccolo? Questo a me sì che fa paura che mi ammazzino. No, raga, vi prego, quando siete con la cosa che ce l'hanno. È sicuro, eh. Sì, quello è vero.